Va ora in onda al culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Sergio Manna. Care sorelle e cari fratelli, buona domenica, benvenute e benvenuti a questo culto della terza domenica del tempo di passione, chiamata anche la domenica Oculi, occhi, dal Salmo che le dà il nome. Invochiamo la presenza del Signore. Il nostro principio e il nostro aiuto sono nel nome di Dio, il quale vuole che tutti siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Ascoltiamo alcuni versetti tratti dal Salmo numero 25. I miei occhi sono sempre rivolti al Signore, perché sarà Lui a liberarmi. Tutti i sentieri del Signore sono bontà e verità. Volgiti a me, proteggimi e salvami. Fa che io non sia mai confuso. Ci vogliamo raccogliere in preghiera. Signore Dio nostro, che ci inviti all'ascolto della Tua parola. Donaci di udire la Tua voce e di riconoscere la chiamata che ci rivolgi. Apri i nostri occhi affinché ci sia dato di riconoscere la presenza di Cristo nelle nostre vite e il suo agire in questo mondo che ha un disperato bisogno di redenzione. Amen. E ora eseguiremo il canto Oculi nostri. Oculi nostri. Oculi nostri. Oculi nostri. Oculi nostri. Il testo della predicazione di questa domenica, suggerito dal nostro lezionario, si trova nell'Evangelo secondo Giovanni al capitolo 2, i versetti da 13 a 17. «La Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio quelli che vendevano buoi, pecore, colombi e i cambiavalute seduti. Fatta una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal Tempio, pecore e buoi. Sparpagliò il denaro dei cambiavalute, rovesciò le tavole e a quelli che vendevano i colombi disse «Portate via di qui queste cose, smettete di fare della casa del Padre mio una casa di mercato». E i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto «Lo zelo per la tua casa mi consuma». Il Signore benedica la lettura e l'ascolto della sua santa parola. Amen. Care sorelle e cari fratelli, questo della purificazione del Tempio è un episodio raccontato da tutti e quattro i Vangeli, ma solo Giovanni lo mette all'inizio, come se volesse comunicarci un messaggio preciso, come se volesse dirci fin dall'inizio chi è Gesù, perché non vi siano fraintendimenti. Gesù è buono, certo, ma attenzione, all'occorrenza sa usare la sferza. Ci sono due letture possibili di questo gesto eclatante di Gesù, che può essere interpretato come purificazione del Tempio oppure come purificazione dal Tempio. Nel primo caso si dovrebbe parlare di purificazione del Tempio perché l'azione di Gesù non si sarebbe rivolta contro il Tempio in sé stesso, bensì contro i comportamenti che a suo giudizio costituivano una sorta di profanazione della casa di Dio. Cambiavalute e vendite di animali erano servizi necessari, considerate le modalità del culto al Tempio di quell'epoca. Dal momento che erano vietate nel Tempio le monete con le figie di Cesare per rispettare il comandamento che vietava l'idolatria, era indispensabile che vi fossero coloro che sostituissero quelle monete con monete prive di immagini che potevano essere offensive per la fede ebraica, ad esempio le monete di tiro. E anche gli animali che venivano offerti in sacrificio bisognava che fossero acquistabili, solo che precedentemente entrambi questi servizi venivano svolti al di fuori del Tempio. Ma ad un certo punto, secondo alcune fonti, il sommo sacerdote Caifa o Anna avrebbero dato il permesso di venderli nel cortile del Tempio. Vi sarebbero stati in questo interessi personali, profitti e anche disaccordi col Sinedrio. Inoltre i costi del culto sarebbero diventati sempre più isosi per molti pellegrini. Di fatto il cortile del Tempio era stato trasformato in un mercato con il conseguente e immaginabile caos. Si potrebbe chiedere come mai si era arrivato a questo? E forse dovremmo chiederci anche noi nel nostro tempo come sia possibile che nell'ambito ecclesiale, in seno alla comunità di fede, si facciano spazio anche a livello istituzionale dinamiche di abuso, di deviazione, di pervertimento, di snaturamento e stravolgimento di quello che era l'intento originario dell'essere luogo di accoglienza e di incontro con Dio. Allora come oggi il Signore non può non essere profondamente irritato con chi trasforma la casa di Dio in un luogo in cui si commettono soprusi e abusi. La seconda lettura possibile del gesto di Gesù è quello di considerare il suo agire come purificazione dal Tempio. In questo caso Gesù esprimerebbe una critica radicale al sistema in quanto tale e non semplicemente ai suoi abusi. Proseguendo una linea di pensiero inaugurata già da alcuni profeti dell'Antico Testamento, Gesù avrebbe espresso il proprio rifiuto verso un sistema di potere gerarchico, per certi versi meccanico, chiuso, non più permeabile ad una qualche nuova ripelazione da parte di Dio. Avrebbe inoltre espresso il rifiuto del culto sacrificale, liberando le vittime designate, vuoi, pecore, colombe, allo scopo di inaugurare una nuova modalità del rapporto con Dio. Non a caso, più volte nel Vangelo di Matteo Gesù ripete la frase del profeta Osea «Voglio misericordia, non sacrificio». E nel Vangelo di Giovanni, poco dopo questo episodio, dirà alla donna samaritana «Donna, credimi». L'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. L'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Una cosa è certa, che si tratti di purificazione del Tempio o di purificazione dal Tempio, di fatto Gesù prende la sferza. Perché la sferza? Non sarebbe stato meglio cercare il dialogo con le autorità religiose. Esiste davvero un momento in cui bisogna rinunciare alle vie della diplomazia per impugnare la frusta? Quando? Molti sono imbarazzati di fronte a questo racconto, di fronte al Cristo con la sferza, che forse non riescono a conciliare con il Gesù delle beatitudini. Si preferisce preservare l'immagine di un Cristo sempre buono e sorridente, in fondo innocuo, che parli soltanto d'amore e che riguardo alla violenza si limiti a raccomandare di porgere l'altra guancia. Questa pagina del Vangelo di Giovanni posta non a caso all'inizio del suo Vangelo vuole ricordarci che ci sono delle cose rispetto alle quali perfino Gesù perde la pazienza e prende in mano la sferza e non contro eretici o infedeli, bensì contro coloro che, professandosi credenti, non esitano ad abusare del nome di Dio, mescolando la fede con interessi economici o politici personali. Gesù si indigna quando questo accade. E noi, sorelle e fratelli, siamo ancora capaci di indignarci quando assistiamo all'uso strumentale del nome di Dio, quando in nome della fede si commettono manipolazioni e abusi dentro e fuori le chiese, quando i politici, pur di arraffare voti, si fanno intervistare con immagini religiose alle spalle o con un rosario in mano, quando si presentano ipocritamente come difensori della triade patria-famiglia-religione, quando si autoproclamano difensori dei valori cristiani e poi non esitano a giustificare le forze di polizia che colpiscono con i manganelli dei ragazzini disarmati, mandandoli in ospedale. Il Gesù che impugna la sferza ci ricorda che ci sono delle cose che irritano profondamente il Signore e che dovrebbero irritare anche noi. Non siamo certo chiamati a impugnare una frusta per ferire a sangue chi commette abusi o soprusi, ma l'indignazione dovrebbe comunque spingerci ad agire per denunciare tutto ciò che offende l'onore di Dio. Esistono strumenti che, pur non essendo armi improprie, possono avere sul piano simbolico lo stesso effetto di una sferza. E si tratta degli strumenti che gli stessi riformatori utilizzarono nel loro tempo. Innanzitutto la stampa. Facciamo udire la nostra voce sia sui nostri giornali sia sui quotidiani ai quali possiamo inviare lettere ogni volta che ravvisiamo ragioni per intervenire. Si veda, ad esempio, la recente vicenda di Altavilla Milicia e come è stato utilizzato impropriamente il termine evangelici per indicare gli ispiratori e gli esecutori della strage. Data l'evoluzione dei tempi, noi abbiamo a disposizione anche strumenti che i riformatori non avevano. La radio, i siti web, i blog, i social in genere. Ma anche la predicazione talvolta può avere l'effetto di una sferza. Non dovremmo esitare, quando le circostanze lo richiedono, a tornare a osare una predicazione politica. Forse ci preoccupiamo troppo di non offendere nessuno nelle nostre predicazioni. Ma è davvero a questo che siamo chiamati? Al quieto vivere? A non toccare mai la suscettibilità altrui? A questo proposito, val forse la pena di ricordare le parole del grande teologo Karl Barth. Non è un buon segno se la comunità prova un senso di timore o di paura allorché la predica diventa politica, come se essa potesse essere anche politica. La comunità consapevole della propria responsabilità politica vorrà e pretenderà che la predica diventi politica. Essa la capirà in senso politico, anche se questa non farà uso di alcun termine politico. E se ci pensiamo, sorelle e fratelli, cosa è stata la dichiarazione teologica di Barman nel 1934, della quale quest'anno ricorrono i 90 anni, se non undire giù le mani da Dio e dalla fede, a chi voleva mescolare insieme religione, sangue, razza e nazione. Dobbiamo dunque essere grati all'Evangelista Giovanni per aver messo nelle prime pagine del suo Vangelo il ricordo di Gesù che impugna la sferza, quasi a rammentarci che ci sono momenti storici nei quali anche noi siamo chiamati a farlo. Ci doni il Signore di discernere i tempi e i momenti nei quali ciò ci è richiesto, accettandone le conseguenze. Ascolteremo adesso il brano Bless the Lord my soul Anima mia, benedici il Signore tratto dal Salmo numero 103 Bless the Lord my soul Bless the Lord my soul He rescues me from there Bless the Lord my soul He rescues me from there Bless the Lord my soul Bless the Lord my soul He rescues me from there Bless the Lord my soul Help bless the Lord my soul Help bless the Lord my soul Bless the Lord my soul Bless the Lord my soul He rescues me from there Bless the Lord my soul He rescues me from there Bless the Lord my soul Bless the Lord my soul He rescues me from there Bless the Lord my soul Ci raccogliamo in preghiera. Signore Dio nostro, dona al tuo popolo il desiderio di esserti fedele in ogni tempo e a qualunque costo. Infondi nelle nostre chiese il tuo spirito, affinché ispiri parole e azioni profetiche in questo nostro tempo. Dacci il desiderio e la forza di lottare per la pace e per la giustizia e la capacità di trovare sempre in te il nostro riposo. Amen. E seguiremo ora il brano Mon âme se repose, La mia anima si riposa, tratto dal Salmo numero 62. La mia anima si riposa, la mia anima si riposa, la mia anima si riposa, Nei anima si riposa, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dal pastore Sergio Manna.